Allora, l'unica cosa che vi vogliamo dire è che noi oggi avevamo un incontro territoriale a Firenze per parlare del forum e per l'incontro del 30 e il 31, però io e Paola, che è là giù, siamo volute venire qua perché quello che posso dire a questa piazza è che voi siete un grandissimo esempio per l'Italia, un gigante esempio che vi chiedo per favore di portare avanti così, perché noi lo stiamo esportando negli altri territori, siete giganti, quindi per favore resistete, non mollate! Non mollate!